Pio e Amedeo, presenti in studio alle Iene, hanno modificato le regole del gioco passaparola che prevede si debba indovinare il personaggio famoso, partendo da alcuni indizi Ebbene, i due comici, in studio con Teo Mammucari, non hanno perso l'occasione di svelare l'identità del VIP di turno, dando vita ad un simpatico siparietto In particolare, Barbara D'Urso e Fedez sono stati presi di mira dal duo comico Pio e Amedeo Oltre alla D'Urso e Fedez, sono stati tirati in ballo anche, Claudio Baglioni, Gianluca Bacchi, e Belen Rodriguez In merito al marito di Chiara Ferragni, Pio e Amedeo si sono mostrati in imbarazzo per non riuscire a trovargli un pregio Non a caso, hanno risposto, il suo pregio? Altra domanda. Sugli eventuali difetti di Fedez, invece, i due comici sono apparsi più disinvolti nel metterli in luce Il suo difetto e la paranoia, hanno dichiarato Pio e Amedeo senza girarci intorno A proposito del rapper milanese, hanno aggiunto, lo conosciamo di persona Se abbiamo lavorato con lui? Abbiamo fatto una roba insieme, sottopagati Non ci ha mai prestato dei soldi, altrimenti col cavolo che gli ridavamo indietro la somma Tra noi è più ricco lui. E di tanto. Prima di passare a parlare gli altri VIP tirati in ballo, Pio e Amedeo hanno lanciato una frecciatina a Fedez, dicendo, se è un numero uno nel suo lavoro? E che lavoro fa questo qui? Io comunque gli spiegherei che la vita vera non è il metaverso che vive lui Quando una persona litiga, può alzare il telefono e chiamare Se gli diremmo in faccia se ci stesse sulle scatole? Ma noi glielo diciamo in faccia Se dovessimo descriverlo con una parola, diremmo, problematico apostrofo Pio e Amedeo alle Iene, dopo Fedez, anche Barbara D'Urso punzecchiata dal duo comico Pio e Amedeo hanno preso di mira anche la conduttrice Barbara D'Urso, parlando di lei senza peli sulla lingua, se ci stimiamo a vicenda? No, noi no Ai due comici è stato chiesto anche quale sia, presumibilmente, il pensiero della D'Urso nei loro confronti, la conosciamo di persona e ci siamo incrociati qui, fuori dal camerino Cosa pensa lei di noi? Che siamo due me e, credo, ci odia, credo che ci odi Quando è arrivato il momento fatidico di descrivere la presentatrice con una parola, Pio e Amedeo hanno detto, se dovessimo descriverla con una parola, io direi, patetica Dai, si è capito che stiamo parlando di Barbara D'Urso? Il duo comico ha precisato, altre sì, rispondendo alle domande, non ci siamo mai ubracati con lei Che voto diamo al suo senso dell'umorismo? Poco, zero, direi. Lei non ne ha Ci sta sulle balle, tantissimo. Non dobbiamo mentire ed essere finti Insomma, Pio e Amedeo hanno tirato una bella stoccata anche a Barbara D'Urso, anche se Pio ha cercato di rimediare, dicendo, no, a me non sta sul cavolo Patetica? No, secondo me invece. Vabbè, ciao Barbara, con il cuore Al momento, né la conduttrice né il rapper milanese hanno risposto alle provocazioni del pungente duo comico, dunque non resta che attendere eventuali repliche da parte dei diretti interessati Leggi anche, GFV, Angela Damondello, lo sfogo disperato tra le lacrime, ecco perché non mi hanno più voluta in studio